ciao ragazzi andiamo a completare il quadro di esercizi con l'unione degli eventi quindi sono prove semplici non sono prove ripetute non è un esercizio nel quale ci sono più lanci di dadi c'è un lancio solo abbiamo visto tanti vari casi legati al lancio del dato adesso dobbiamo vedere l'unione di due eventi calcola la probabilità che lanciando un dado venga un 2 o un 5 attenzione a quel o o uno o l'altro quindi significa che l'evento si verifica qualora si verifichino una delle seguenti condizioni l'uscita del 2 o l'uscita del 5 quindi qui capiamo che non è una prova ripetuta perché altrimenti avremmo trovato scritto sul testo lanciando un dado venga un 2 e un 5 quindi calcola la probabilità che lanciando due volte poi ovviamente avremmo trovato un dado venga un 2 e un 5 e allora lì avremmo dovuto fare un'altra cosa per adesso non ci interessa ci interessa quel o perché quel o ci aiuta a capire che tipo di impostazione dare all'esercizio consideriamo l'insieme degli eventi costituiti dalle sei facce del dado quindi 1 2 3 4 5 e 6 prendiamo in considerazione solo i numeri 2 e 5 dall'insieme delle sei facce mi prendo le due facce che ci danno il verificarsi di un evento e nello specifico dell'evento uscita del 2 o l'uscita del 5 prendiamo in considerazione quindi solo come abbiamo detto i numeri 2 e 5 e vedete dobbiamo costruire i due eventi quindi pda esce il 2 pdb esce il 5 la probabilità dell'evento quindi è data dall'unione di questi due eventi quindi dal verificarsi o di uno o di un altro evento quindi pde è uguale a pda più pdb quindi pde è dato dalla somma di due eventi dobbiamo ora calcolare il valore richiesto dalla traccia quindi pde uguale a casi favorevoli fratto casi possibili e sarebbe casi favorevoli fratto casi possibili più casi favorevoli fratto casi possibili perché comunque abbiamo pda e pdb quindi abbiamo che l'evento si verifica per effetto della somma di questi due eventi uscita del 2 o l'uscita del 5 quindi casi favorevoli un sesto più un sesto un sesto è l'evento a l'uscita del 2 un sesto l'altro un sesto è pdb quindi l'uscita del 5 completiamo l'esercizio quindi pde è uguale a pda più pdb quindi sappiamo che pde è casi favorevoli fratto casi possibili più casi favorevoli fratto casi possibili casi possibili sono questi sei che vedete cerchiati in rosso andiamo a svolgere l'esercizio quindi un sesto più un sesto fa due sesti ovviamente semplifichiamo due sesti e il risultato dell'esercizio è un terzo l'esercizio è un terzo Grazie.